Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Tanto come state? Tutto bene? Buon inizio di settimana? Sarà una settimana importante, molto importante. Mercoledì è una giornata chiave, la Juventus avrà un nuovo CDA, diciamo una manica di commercialisti, che dovrà poi affrontare tutto il discorso legale che coinvolge la Juventus sull'inchiesta Prisma, sia sul piano ovviamente della giustizia ordinaria e sia sul piano sportivo. Il 27 marzo ragazzi ci sarà l'udienza preliminare, sempre per l'inchiesta Prisma, per quanto riguarda il filone della giustizia ordinaria. Saranno mesi caldi, bollenti, quindi mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale. Iscrivetevi se volete rimanere sempre aggiornati e sul pezzo. E se in questo momento non siete dell'umore giusto per guardare la Juve ho un secondo canale dove parlo di viaggi, cercherò di alliettarvi dall'altra parte. Il canale si chiama Colpo on the Road. Quindi mi raccomando iscrivetevi anche di là. Vi lascio magari il commento pinnato sotto con il link del canale e potete iscrivervi. Allora, dobbiamo parlare di pallone, di pallone, perché è vero che ci sarà il nuovo CDA, Ferrero sarà il nuovo presidente, ci saranno delle figure nuove e vedremo di chi si parlerà, ma saranno figure estremamente tecniche che avranno a che fare con problemi di natura contabile ed è normale che il profilo che verrà scelto per coprire incarichi nel CDA della Juve, quei profili avranno delle caratteristiche legate ad un percorso accademico e manageriale importante e, ripeto, toccheranno e abbracceranno il filone della finanza e dell'economia, non saranno delle figure di campo. E ci sta anche avere un CDA che sia stracompetente in materia contabile e in materia di gestione aziendale, ci sta. L'importante è che in dirigenza, poi al lato pratico, ci siano delle figure che mastichino di campo. E io l'ho detto, in questo momento la Juve è abbandonata alle mani di chi? Di Massimiliano Allegri e di Federico Cherubini. Io pensavo, insomma già da tempo, che era importante metter là una figura terza, sempre di campo, un ex giocatore che ridia senso di appartenenza, che sia un faro per i giocatori, che sia una guida personale e collettiva, nel senso che quando qualcuno ha dei problemi personali ha una figura lì di riferimento. Come era per esempio Pavel Nedved in precedenza. Tanti scrivano Shima Pavel, al di là dell'essere nel CDA come figura di vicepresidente, che ruoli svolgeva? Beh, svolgeva un ruolo di consulenza ai giocatori, personale, di carriera e poi annusava le dinamiche di gruppo, cercava di capire quali erano le problematiche e portava magari certe istanze in dirigenza, ne parlava e cercava ovviamente di risolverle. È stato molto attento a certi calciatori e al percorso di certi calciatori Pavel Nedved per cui mi aspettavo anche una figura terza. Un nuovo direttore sportivo? Attualmente c'è Federico Cherubini ma è normale che con una ricostruzione del CDA e di tutta la parte tecnica possa Federico Cherubini magari andare via o possa magari tornare a fare dei ruoli più congeniali come la gestione di tutta la filiera della creazione del talento della Juventus quindi con la gestione delle giovanili. Vediamo che cosa succederà sulla sua figura. Io francamente ve lo dico qua lo apprezzo tanto ma credo che in questo momento la Juventus abbia bisogno di una personalità forte su cui basare quello che è il progetto sportivo. non voglio tessere le lodi di Giuntoli però Giuntoli a mio parere sarebbe la figura perfetta sarebbe la figura perfetta ma perché ha quelle caratteristiche e non mi fisso su di lui e basta credo che ci siano tanti altri direttori sportivi che siano in grado con le risorse che ha la Juve con la struttura che ha la Juve di poter far bene ma di seguire quel tipo di linea di pensiero che ha portato questo Napoli qua a performare in questa maniera a crescere in un solo anno con una rivoluzione di rosa totale e quindi Giuntoli lo apprezzo ragazzi cioè Giuntoli ha spazzato via tutti i senatori della squadra Calcio Napoli ha preso dei giovani talenti tra cui Kim Kvarasvelia ha preso Spalletti anche come allenatore e nelle scelte che ha fatto ovviamente strapponderate mai di pancia è riuscito a creare una squadra super competitiva con dei giocatori super interessanti con un allenatore che li sa valorizzare la bravura del direttore sportivo è questa qua saper pianificare saper gestire anche momenti di transizione particolare perché io ricordo bene che la piazza Napoli quando furono ceduti i vari Koulibaly Mertens Insigne eccetera e vennero presi questi giocatori qua la piazza Napoli era parecchio delusa ha iniziato a riconsiderare tante aspettative che magari in passato avevano per esempio puntiamo allo scudetto puntiamo a qualificarci in Champions League sono partiti con un profilo molto basso eppure il rendimento in campo cosa ci dice che gli acquisti che ha fatto Giuntoli sono perfetti che la squadra gira meglio dell'anno scorso e se vogliamo è una squadra che ha meno pippe mentali legati alla città eccetera quella gente che vuole andare là vuole far bene e sta facendo molto bene c'è anche un altro aspetto che bisogna bisogna evidenziare anche del lavoro di Giuntoli ha preso tutto a basso costo gli ingaggi sono bassi e in un momento simile la Juventus ha bisogno di una figura che sappia riconoscere il talento che sappia riconoscere quando un giocatore è forte che sappia dare in mano un progetto sportivo in mano ad un allenatore che dia valore e la capacità del direttore sportivo è quella di prendere un giovinotto anche come calciatore portarlo in un contesto farlo insomma valorizzare dall'allenatore e poi magari più avanti rivenderlo perché in questo momento il calcio italiano è in quell'intermezzo là non siamo un punto d'arrivo per nessuno siamo solo una tappa intermedia o una tappa finale perché tanti magari vengono a svernare dopo aver fatto una vita in determinati campionati per esempio il caso di Di Maria alla Juve per cui avere comunque un direttore sportivo simile ti porta ad avere i conti a posto tanto valore in rosa e una squadra vincente cioè giuntoli è riuscito in questo miracolo qua e badate bene che non è che voglio per forza tessere le lodi non è una lecca culata al Napoli è una constatazione di fatto e la Juventus in questo momento ha bisogno di una figura simile ha bisogno di una futura simile perché i conti ci impongono una revisione della gestione che abbiamo fatto finora che poi devo dire in realtà negli ultimi tempi si è lavorato tanto sulle giovanili e tanto valore lo si è creato da quel punto di vista anche se sul campo si potrebbe fare tanto di più e lo sapete bene mi sono già espresso per cui giuntoli sarebbe la figura giusta per la Juventus sì anche se secondo me non verrà lui perché verrà rinnovato dal Napoli verrà rinnovato e credo che rimarrà là soprattutto dopo questa stagione straordinaria io credo che che possa far bene salvo ovviamente non sia di quella che pensa c'è poca possibilità in questo contesto di ripetere un'impresa di questo calibro di questo livello io me ne vado da vincitore e me ne vado alla Juve non so però non lo so perché giuntoli ha fatto molto bene che colgarà il Carpi ragazzi è arrivato in Serie A come? come? però al di là di tutto non so se lascerebbe Napoli per la Juve perché sapete già quali sono tutte le conseguenze del caso serve una figura forte anche da questo punto di vista nel sapere gestire questo passo perché poi magari vinci a Napoli e sei l'idolo ma te ne vai alla Juve e sei l'ultimo dei pezzi di avete capito quindi serve anche particolare attenzione a questo a questo aspetto qua però insomma voglio sapere la vostra opinione nei commenti ditemi voi se avete anche delle figure di direzione sportiva interessanti da proporre che mi piacerebbe leggervi per quanto riguarda Max Allegri secondo me la sua figura non è cardine non è stabile alla Juventus perché vi dico questo ho visto tante ricostruzioni giornalistiche che in questo momento hanno dato Allegri come manager alla Alex Ferguson perdiamo col Napoli e già iniziano a ritrattare iniziano a mettere in dubbio la possibilità che Allegri possa rimanere a fine stagione queste non sono notizie queste sono deduzioni giornalistiche e neanche troppo brillanti in realtà perché sulla deduzione giornalistica del fatto che Allegri potesse ricoprire un ruolo da supermanager alla Sir Alex Ferguson io non ci ho creduto una volta e ve l'ho detto anche in altri video per me è una roba infattibile c'è in questo momento Federico Cherubini porteranno la barca in porto fino a fine anno e poi si vedrà perché secondo me entrambe le figure rischiano di saltare anche perché Salli Ventus dovrà ricostruire una direzione sportiva a partire da un direttore sportivo sarà compito del direttore sportivo quello di scegliere un nuovo allenatore a lui congeniale e non mangiarsi questa minestra a tutti i costi ed è per questo che io a certe ricostruzioni e deduzioni giornalistiche ci credo mezza volta in questo caso e credo anche inoltre che se Allegri andrà a fare delle richieste un po' onerose alla società per intervenire sul mercato e puntellare la squadra io non so quanto la dirigenza sia disposta a venire incontro a quelle che sono le sue esigenze perché siamo in un momento particolare di transizione perché siamo in un momento particolare dove Massimiliano Allegri a mio parere è sempre in discussione e non puoi fare gli acquisti importanti per un allenatore che è in discussione perché poi arriva quell'altro allenatore con cui puoi pianificare un ciclo un po' più ampio che fai? ti rimani sul gruppone quel giocatore magari che non avevi voluto molto fino al principio faccio un esempio banale ricordate Mre Can? una roba simile vediamo cosa succederà comunque sono curioso di leggere le vostre opinioni sotto nei commenti iscrivetevi al canale ci vediamo più tardi con un video fatto anche con altri miei colleghi youtuber un abbraccio a voi e sempre fino alla fine forza io ragazzoli un abbraccio